Musica Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul canale video, il primo video della Hallow Week Allora, quest'anno ho deciso di concentrare tutti i video nella settimana di Halloween, quindi dal 25 al 31 Probabilmente ci sarà il 30, che sarà un giorno di pausa, perché per vari motivi non riesco a pubblicare Però diciamo che ho avuto un po' di idee e quindi ho detto proviamo a farlo La prima cosa che voglio fare per questa Hallow Week è proprio intagliare la zucca Allora, voi dovete sapere che io con le zucche non ho molta fortuna Perché il primo anno ce l'avevo, ma proprio tanti tanti anni fa, verde, le classiche zucche verdi, quindi molto da Halloween L'anno scorso mi pare che non l'ho intagliata, l'ho intagliata l'anno prima Però sono sempre zucche non quelle classiche di Halloween, perché non le trovo mai Tipo, boh, non le trovo E quindi ho preso questa zucchetta qua, ora ve la faccio vedere È piccolina, diciamo, ed ha questa forma, quindi è un po' a pera, diciamo, non so che tipo sia E vi faccio vedere come mi sono organizzata Zucchetta Ciotola per metterci dentro le schifezze che c'è dentro Cucchiaio Super coltello da tipo killer Coltello più piccolo, seghettato Un guanto, perché ho detto magari devo tirare fuori tutta la cosina E un pennarello per poi dare a disegnargli la faccina Quindi io direi di iniziare Allora, direi di fargli un buco, tra virgolette, un po' grandino Perché altrimenti poi non si riesce a mettere la mano Quindi vado a tracciare più o meno un cerchio Anche un po' più giù Qua Sì, più o meno Un po' più giù di qua Anche Ok Boh, io penso che possa andare Allora, mi fa ridere perché sarà un video disagiato Comunque proviamo a vedere se pian piano riusciamo E quanto è spessa sta buccia di questa zucca Allora, io inizio pian piano a intagliare così Questo coltello però va meglio che quello degli altri anni L'ho comprato proprio nuovo apposta Prima faccio tutta questa parte Poi incido un po' di più E vediamo Ok Allora, l'ho ritagliata tutta E diciamo che l'ho ripassata anche bene E mi sembra che si stia per scastrare Quindi vediamo insieme Guardate Yes, ragazzi Oh mio Dio, è spessissima Ecco perché ci vorrà un secolo Guardate che carino Adesso vado a tagliarlo Lo taglio Qua Dritto con questo grande Eccolo fatto Questo è il cappuccetto della nostra zucca Qua c'è ancora del segno Però poi di pennarello Però poi con un po' d'acqua o acetone lo tolgo Quindi Cappellino della zucca fatto Questo lo vado a buttare E questa è la zucca Super piena Ragazzi, ma mi spiegate una cosa Ma Perché puzzano così tanto le zucche? Adesso vi farò fare una risata Per gli amanti della zucca Però veramente Io tutti gli anni che intaglio la zucca Hanno un odore pazzesco Cioè secondo me hanno proprio Un brutto brutto odore Le zucche Infatti Come forse ho già detto Nella mia famiglia Odiamo le zucche Io sono un amante Proprio un amante Sfegatata Dei semi di zucca tostati E mi piacciono un sacco Anche se a volte Li mangio in modo particolare Nel senso che Li mastico E poi disputo Cioè praticamente proprio così Quindi adesso Con questo meraviglioso cucchiaio Andiamo un po' a togliere Tutto lo schifio E poi Voilà La zucca è stata ripulita Io mi ricordo che gli anni scorsi Facevo anche un po' di Scavare Diciamo dentro Per rendere la buccia Un pochino più Sottile Però mi sa che quest'anno Non lo farò Per il semplice motivo Che già ho fatto Un pochino così qua sopra E noto che Il cappuccio Sì Abbastanza Aspettate Allora facciamo I segni Che ridere Così Più o meno Allora La parte più bella È questa qua davanti Quindi vado a disegnargli Una faccina Non so che faccina fare Avevo anche Il libro Delle faccine Di Halloween Se vi ricordate Che avevo preso Da Tiger Però praticamente Essendo che è piccolina Penso che farò Una normalissima Faccina Magari solo Col sorriso E gli occhi Vediamo cosa Riusciamo a fare Allora Tanto guardavo Più o meno da qua Sì Boh Proviamo Non deve essere Troppo giù Allora Facciamogli un bel Sorriso Smile Solito dente Che manca Così Più o meno Questa sarà La parte Da Tagliare Togliere E gli occhi Accidenti Essendo bassa La farò Mi piaceva Farla con gli occhi Così Vediamo un po' Sarà Difficilissimo Non so se riesco a farla Però mi faceva Piacere Fargli una faccina Diciamo carina E non troppo creepy Così Non lo so però Se riesco Perché La vedo un po' dura Però vabbè Vediamo Era carina Fare una faccina così E poi Mi era venuto in mente Una cosa Che potrei Anche dipingere Il cappuccio di nero Sembra Una streghetta Cosa dite? Potrebbe sembrare Una streghetta? Secondo me sì Mi è venuta adesso Questa ispirazione Adesso vediamo Perché qua È difficilissima Sta 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 cosa Allora Piano piano Iniziamo Iniziamo Allora, come tutti gli anni, se noi vogliamo fare qualcosa di più, diciamo, facile, divido il sorriso, nel senso che non lo vado a staccare tutto insieme, ma in questo caso lo stacco così, un pezzetto alla volta. Proviamo con tutti, ecco fatto, così, e poi vado a staccare anche gli altri pezzi. In questo modo è più semplice che tirare fuori tutto il blocco, facciamo intero. Gli occhi saranno un casino, fatti così. Però, ups, ok, ci siamo, vado a ripulire un pochino il sorriso, perché vedete che è un po' filamentoso, e torno da voi. Ok. Boh, io gli occhi non so, non riesco a farglieli così, quindi farò i classici triangolini, perché così, poverini, sono un po' troppo difficili, sono troppo fini. Quindi triangolini sia almeno più semplice. Sì, ce l'ho fatta! Anche quest'anno è venuta carina! Molto carina! Non gli faccio il naso, perché preferisco così, senza naso, ed è molto carina. Adesso mettiamo il cappellino, dove sono i segni? Eccolo qua! Guardate che carina! Dai, è super carina! No, vabbè, non la dipingo, perché poi intanto se la accendo col lumino di notte, cioè non ha senso, perché non si vedrebbe, però sembrava un po' una streghetta. Adesso vado a ripulire bene il bordo, con dei segni vari che ho fatto, e gli metto il lumino, e vediamo come sta, ok? Ci vediamo fra un po'. Molto creepy! Carina anche quest'anno, ragazzi. Allora, adesso accendo la luce così vi faccio vedere, però sì, dai, è molto carina. Non si nota, ma qua è carinissimo che si vede sopra un piccolo spiraglio di luce. Che carina! Un attimo, adesso accendo la luce, ed eccola qui! Sì, scusate, c'era ancora Gator, un po' di cose. Diciamo che quando l'ho intagliata, lo lasciate lì, non l'ho pulito. Comunque che carino, adesso vi faccio vedere via il cappellino, la candelina qua. Eccola, ho tolto la luminosità. Bellissima! Bene, ragazzi, il video finisce qua. Fatemi sapere in un commento se vi è piaciuto questo intaglio della zucca, e se voi l'avete fatta. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video della Halloween, e come sempre, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like, commentate e soprattutto condividete. Ciao a tutti e alla prossima!